Mio caro Frodo, una volta mi hai chiesto se ti avessi raccontato tutto riguardo alle mie avventure. Anche se posso affermare onestamente di averti detto la verità, magari ho tralasciato qualcosina. Bilbo Baggins, cerco qualcuno con cui condividere un'avventura. Non posso prendere e andarmene su due piedi. Sono un Baggins? Aspetta! Di casa Baggins? Bilbo, permettimi di presentarti. Fili, Kili, Oin, Gloin, Duali, Bali, Bifur, Bofur, Bofur, Dori, Nori, Ori e il capo della nostra compagnia, Thorin, scudo di quercia. Lontano su nebbiosi monti gelati In antri oscuri e desolate Ruggenti pini sulle vette Ruggenti pini sulle vette Non posso garantire la sua incolumità. È chiaro. Ne sarò responsabile del suo destino. Avrai qualche storiella da raccontare quando tornerai. Puoi promettermi che tornerò? No. No. E se tornerai, non sarei più lo stesso. Mi chiamo... Bilbo Baggins. Bagginsis? Cos'è un Bagginsis? Pesara!